candidato sindaco partita pd fra biancani vimini e mengucci parte il cantiere al san domenico si inaugura il nuovo mercato delle erbe da villa marina la mascarucci domani all'asta 10 immobili comunali è morta federica tesini presidente d'italia nostra pesaro 2024 sulle note musicali di oceano adriatico una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale di rossini news del giornale di martedì 23 di gennaio che apriamo questa sera con la politica perché ieri sera si è tenuta l'assemblea del partito democratico di pesaro finalizzata alla definizione del prossimo candidato a sindaco in vista delle elezioni di giugno vediamo quanto emerso in questa intervista al segretario comunale del partito democratico giampiero bellucci noi abbiamo fatto un percorso d'ascolto in cui abbiamo invitato tutti i membri dell'assemblea comunale che sono circa 80 emerso una linea maggioritaria che in qualche modo privilegia la scelta unitaria alcuni sostengono che la scelta migliore sarà quella delle primarie di partito e ieri sera ci siamo dati un impegno ulteriore per far crescere il gruppo che sostiene la scelta unitaria in maniera tale da arrivare a una candidatura condivisa da tutto da tutti i membri del partito democratico perché la riteniamo in linea con quello che sta succedendo nella città abbiamo visto già sabato la capitale l'inaugurazione della capitale della cultura che è stata una dimostrazione di questo lavoro di squadra questo lavoro orchestra come è stato raccontato che in qualche modo è un'eredità anche per la prossima campagna elettorale che credo che la città ha apprezzato e credo che da parte nostra ci sia ci debba essere l'impegno a portare avanti quel modo di lavorare sul candidato a sindaco c'è poi anche un discorso extra partito democratico un discorso di coalizione ad esempio penso ad esempio il movimento 5 stelle che recentemente ha fatto presente di essere coinvolto nella scelta anche l'ipotesi delle primarie andrebbe un po in controtendenza a questo spirito di squadra esatto infatti in questo mese abbiamo fatto anche un ascolto in maniera molto così soft però con le forze politiche che in qualche modo già sono in maggioranza anche con le liste civiche che sono già in maggioranza e anche con qualche forza politica che così guarda da fuori sta valutando se entrare e che tipo di contributo dare mi riferisco ad esempio a più europa sinistra italiana con il movimento 5 stelle abbiamo già fatto alcuni incontri e sostanzialmente è comune e questo rafforza questo percorso unitario che stiamo facendo che le candidature che abbiamo messo sul tavolo sono largamente condivise perché sono in linea con la scelta la gestione politica amministrativa di questa città le candidature che sono sul tavolo attualmente quella diciamo che ha riscosso una diciamo da parte dell'assemblea comunale nella fase di ascolto un consenso importante quella di andrea biancani e poi ci sono anche altre candidature che sono quelle di vimini e quella di sarà mengucci che che ieri sera e chiaramente l'ha esplicitata durante l'assemblea io penso che dobbiamo cercare di andare diciamo a vedere se la candidatura di andrea ha la forza di allargarsi in maniera tale che possa essere l'espressione di tutto il partito democratico e capire se da parte degli altri contendenti e da parte del partito democratico c'è un lavoro di responsabilità di portare ognuno un contributo per rafforzare la candidatura di andrea eventualmente la candidatura di altri se la riteniamo in linea con questo spirito di squadra che stiamo in qualche modo rafforzando con un percorso democratico aperto schietto che sembra che sembra in qualche modo essere quello utile corretto per la città questa mattina nel centro storico di pesaro è stato ufficialmente inaugurato il nuovo mercato delle erbe trasferito in via gavardini un trasloco che ha liberato il complesso san domenico ora scoperchiato e pronto ad una riqualificazione da oltre 8 milioni di euro 23 gennaio oggi taglio del nastro al rinnovato mercato delle erbe che da circa una decina di giorni si è gradualmente trasferito negli spazi di via gavardini spazi ricavati nella corte di palazzo gradari un momento molto atteso soprattutto per il significato di questo mercato che ha circa 150 anni di età della sua permanenza nel complesso del san domenico un trasloco obbligato per i lavori di restyling del san domenico che si è concretizzato in questo trasferimento oggi applaudito praticamente dall'intera giunta comunale riunita per l'occasione oggi siamo qui per inaugurare un mercato che è 150 anni che vive nella nostra città ed era importante mantenere il valore storico la settimana scorsa abbiamo inaugurato pesaro capitale della cultura è anche giusto mantenere la tradizione della nostra città anche per i turisti anche perché siamo vicini alla casa rossini ritorno a ringraziare tutti gli uffici che hanno lavorato e hanno capito l'esigenza di dare continuità a questi ambulanti che sono sette e automaticamente si crea un indotto un indotto perché ci sono i grossisti c'è un mondo che gira intorno a un mercatino e noi in tutto questo ci siamo stati abbiamo fatto sì che il mercatino a pesaro continui poi per le coperture abbiamo finanziato circa 40.000 euro abbiamo dovuto coprire una parte interna dove c'è il pane e i formaggi e ricavare uno spazio per loro perché essendo materie che si possono rovinare e poi per il resto la frutta e la verdura rimane all'aperto come tutti i mercati in fondo sono degli ambulanti e arriveranno anche due gazebi e altre tende per coprire la parte del materiale che hanno bisogno che sia coperta la scelta di questa destinazione di via gavardini è arrivata dopo lunga concertazione fra ambulanti associazione di categoria e comune con gli ambulanti che oggi si esprimono così su questa nuova location e qua come sta andando tutto bene dai siamo sulla linea del vecchio mercato la gente continua a fluire siamo contenti dai solo l'unico problema è la copertura perché io avendo poche robe tutto qui però non c'è niente per coprirmi e allora manca quella se no il posto è carino poi siamo tutti tutti qui siamo in pochi come una famiglia ecco adesso devo dire che va bene però insomma il posto è bellino a parte questo tetto che ancora si dobbiamo adattare sono per il resto ci siamo sistemati bene la gente risponde viene i clienti va bene insomma dai sono contenti non è che ha cambiato di chissà quanto insomma e mentre si inaugura il nuovo mercato dell'erbe il vecchio mercato dell'erbe nel complesso di san domenico è in procinto di una vera rivoluzione per un cantiere che partirà la prossima settimana entra nel vivo un cantiere importante per la città un'opportunità anche di riqualificare riportare vita anche in un asse importante del centro storico di via giordano bruno in particolare perché la prossima settimana inizieranno i lavori consegneremo il cantiere la ditta che ha vinto l'appalto per realizzare 8 milioni 400 mila euro di lavori di recupero e restauro del palazzo san domenico il palazzo per intendersi dietro le poste dove prima era situato il mercato delle erbe che oggi inauguriamo qua un lavoro importante come si diceva perché porterà l'università e porterà un polo di giovani anche al piano terra uno spazio pensato per far vivere il cibo il food quindi è pensato anche come un luogo che possa vivere la mattina per valorizzare prodotti tipici locali quindi ripensando anche un mercato ortofrutticolo un mercato in chiave moderna come si può come ce ne sono oggi altri in italia in europa e farlo vivere poi tutta la giornata quindi pensandolo anche come un luogo che si trasforma durante le ore pomeridiane e serali per l'aperitivo per la cena un polo d'aggregazione anche diciamo con che mette i giovani al centro e ci consentirà anche come dicevo di recuperare un asse importante di piazza del popolo perché via giordano bruno è un'arteria importante per la città oggi in grande sofferenza e domani con il recupero del san domenico potrà essere una via importante proprio all'interno del centro storico dalla scuola mascarucci al centro sportivo di villa marina dall'ex carcere minorile fino al centro d'aggregazione totem di villa san martino sono questi alcuni dei dieci immobili del comune di pesaro che domani verranno ceduti all'asta il 24 gennaio nella sede del comune di pesaro andranno all'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo dieci immobili di proprietà comunale del valore complessivo di base d'asta di poco inferiore ai 5 milioni di euro il comune intende infatti rigenerare gli immobili con nuove funzioni per generare investimenti a beneficio del territorio tra questi si punta a recuperare l'impianto di villa marina che viene alienato mantenendo la destinazione sportiva quasi 5 mila metri quadrati sul lungomare che partiranno dalla base d'asta di 850 mila euro vall'asta anche la scuola mascarucci di soria con nuova destinazione urbanistica residenziale terziario che il comune aliena con base d'asta di poco inferiore ai 2 milioni di euro rientra nel bando anche l'otto di via degli artigiani 9 originariamente adibito a scuola oggi sede del centro di aggregazione totem di villa san martino che necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria un'asta che comprenderà anche terreni edificabili in via condotti a muraglia e in via fastigi stessa zona per l'ex delegazione villa fastigi in quello che era un edificio scolastico con valore di 208 mila euro all'asta anche tra i mobili situati in via piola torre di montecchio di valle foglia vale a dire due negozi e gli uffici dell'ex poliambulatorio asur è morta ieri federica tesini storica presidente di italia nostra di pesaro urbino da sempre attiva nelle politiche ambientaliste del territorio e della tutela del patrimonio storico culturale e architettonico la tesina è morta all'ospice di fossombrone dopo una malattia che non le ha lasciato scampo avrebbe compiuto 72 anni proprio domani e da 38 anni era presidente di italia nostra domani mercoledì 24 gennaio ci sarà sciopero nazionale dei trasporti pubblici uno sciopero motivato da richieste disattese su rivendicazioni contrattuali a pesaro adrabus annuncia che le corse degli autobus fra le 8 e 30 alle 17 e dal tra le 20 fino a fine servizio potrebbero non essere garantite l'ufficio informazione e le biglietterie potrebbero sospendere il servizio per intera giornata o per le ultime quattro ore del turno esclusi dallo sciopero i servizi per disabili e servizi scuolabus e a proposito di autobus come potete vedere da queste immagini un mezzo del trasporto pubblico locale di pesaro ha subito oggi un incidente alla rotatoria di via sandro pertini in zona rossini center e lidl incidente è avvenuto attorno alle 13 30 col veicolo che è stato tamponato da una ford focus nell'occasione non ci sono stati feriti ma il traffico si è congestionato con il mezzo pesante rimasto a lungo in mezzo alla rotonda e continuiamo quotidianamente ad occuparci di pesaro capitale della cultura 2024 e in particolare dei sostenitori di questo progetto come banca di pesaro che supporta il progetto 50 per 50 capitale al quadrato siamo sponsor partnership delle diciamo della manifestazione 50 per 50 che riguarda tutto il territorio non solo pesarese ma anche i comuni limitrofi e la banca non poteva non essere presente in una manifestazione così importante appena ci hanno chiesto di partecipare come sponsor ma più che come sponsor abbiamo valutato questa grande iniziativa fatta dal comune di pesaro dove è riuscito a portare sulla nostra comunità un evento così importante che testimonia ancora una volta la viva città e soprattutto anche l'interesse che mostra il nostro territorio in cui dove operiamo come come banca di pesaro siamo veramente orgogliosi di continuare e speriamo di continuare in questa direzione dove si parla tanto di desertificazione delle piazze mentre noi continuiamo ad assistere i territori non solo le comunità diciamo un pochino vive pesaro ma soprattutto i comuni limitrofi che ne hanno veramente bisogno una banca radicata nel territorio ed è una dimensione locale che trova una inedita dimensione di cassa di risonanza nazionale si guarda è una banca locale che per ormai da diversi anni facciamo parte di un gruppo importante il gruppo bancari crea guidato da un direttore veramente con una lungimiranza che ha dato la possibilità a tutte le bcc siamo circa 117 di mantenere vive l'interesse per i territori cioè non c'è questa corsa alle aggregazioni fusione alla mega dimensione ma lui è stato veramente molto lungimirante nel vedere di assistere le banche chiaramente nella sana e prudente gestione perché poi questo è fondamentale perché noi abbiamo gestiamo il denaro dei cittadini in cui operiamo e investiamo soprattutto sui territori e grazie al gruppo potremo continuare ad assistere sempre al meglio chiaramente grazie anche ai grandi istituti che è fondamentale la presenza dei gruppi secondo me dei gruppi bancari nazionali e internazionali ma le bcc per la dimensione diventando un tutto uno sono il terzo gruppo bancario italiano e io penso che continueremo così per tantissimi tanti tanti anni dai sostenitori passiamo ai nuovi progetti di pesaro 2024 come oceano adriatico un progetto che valorizza un ventennio di scena musicale indipendente a pesaro oceano adriatico è più di un progetto è un progetto creato insieme a degli attori in primis la cooperativa labirinto che è l'ente attuatore di questo progetto ma con tanti giovani e rappresentanti del nostro territorio un progetto che parla alle nuove generazioni un progetto che parla agli studenti del nostro territorio che anche sabato hanno dato modo modo di farsi conoscere sia per entusiasmo che come presenza ma anche un modo di lavorare che noi adoriamo che vogliamo ancora di più incentivare uno strumento c'è un adriatico che si svilupperà all'interno dei 12 mesi fino alla fine di questo 2024 che parte mercoledì 24 gennaio al Gra e che avrà occasione di incontro scambio e conoscenza per i giovani legati al mondo musicale. Il primo progetto è dedicato al rapporto tra città e la musica e il secondo sono una serie di concerti di musiciste internazionali e italiane in luoghi non usuali della musica finalizzati ad un pubblico di ogni età nel senso di ogni genere di gusto ma l'idea lì è anche di permettere a gruppi musicali o artisti musicali pesaresi di aprire questi concerti. La terza parte, il terzo progetto, musica sostantivo plurale femminile, tematizza proprio il tema del genere, il rapporto tra il genere e la musica perché oggettivamente sono meno le donne che fanno musica, perché oggettivamente il pubblico è costituito per la maggior parte di donne e partendo da questi dati banali come dicevo prima andiamo a allargare, a complessificare la situazione per cercare di capire anche per quello che si può e attraverso la costituzione di un coro femminile che lavorerà, che si costituirà apposta per un evento di fine anno di canzoni tradizionali che percorrono la donna nel corso della storia proprio dal rinascimento a oggi, canzoni popolari che noi conosciamo interpretate da un coro e dall'altra far incontrare studenti, studentesse pesaresi, far incontrare loro musicisti e musicisti che professionalmente sono dentro il mondo della musica, professionalmente hanno a che fare col mondo dei talent ad esempio, per raccontino e chiacchierino un po' insieme per permettere anche una conoscenza dell'ambiente musicale al di là di quello che è l'apparenza che noi abbiamo come pubblico esterno. Domani mercoledì 24 gennaio alle 18.30 parte la rassegna Echi Rossignani tra musica e parole, ciclo di incontri proposto dal Circo L'Amici della Lirica Rossini, in omaggio all'anno da capitale della cultura. Si comincia nella cornice dell'auditorio di Palazzo Montani Antaldi con una conferenza presentata da Carolina Patierno, docente del Conservatorio San Giocomontonio di Cosenza. Al centro dell'incontro un coinvolgente percorso fra archetipi, fonti e questioni antropologiche nella semiramide da Volter a Rossini. Oggi 23 gennaio ricorre l'ottantesimo anniversario del bombardamento di Urbania, ricordo di un evento bellico che sarà al centro di un recital teatrale scritto da Laura Corraducci. E' iniziato il ricchissimo cartellone di appuntamenti di Pesaro Capitale della Cultura 2024, cartellone trasversale a tutta la provincia di Pesaro Urbino e il caso del Teatro Bramante di Urbania che giovedì 25 gennaio propone il rovescio della luce, un recital storico teatrale proposto da Laura Corraducci. Sì, saremo al Teatro Bramante di Urbania, proprio come hai detto tu il 25 gennaio, a ricordare degli avvenimenti importanti accaduti nella città di Pesaro ma anche nella provincia di Pesaro in questo anno, come hai sottolineato importante, l'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura e il rovescio della luce, un testo che io ho scritto qualche anno fa e che abbiamo io e Cristian della Chiara già portato in scena, mette in evidenza e cerca di raccontare in un modo credo coinvolgente degli episodi accaduti, fra cui anche il bombardamento di Urbania, di cui quest'anno ricorrono gli 80 anni. Non ci sarà solo il racconto di Urbania ma ci sono altri episodi che hanno così incendiato in modo ovviamente molto violento la nostra provincia, la strage di Montecchio, di cui anche di questa strage ricorrono gli 80 anni, fino ad arrivare alla liberazione della nostra città, della liberazione di Pesaro. Filmati, immagini di repertorio, musica e un'interpretazione spero coinvolgente per il pubblico e per le persone che interverranno. E immagino per Urbania particolarmente importante perché saremo proprio lì in un territorio che ha vissuto l'orrore della guerra. Credo che questo recital sia drammaticamente attuale visto i due conflitti importanti che stanno sconvolgendo il mondo insieme a tutti gli altri di cui si parla meno. È importante mettere in luce la guerra per puntare su quello che conta davvero, cioè la pace. Si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata dedicata all'approfondimento politico, quello del martedì, quello di amministrando il nostro focus improntato verso le elezioni amministrative 2024 negli studi del nostro conduttore Luigi Benelli. In questa occasione ci saranno Anna Maria Mattioli del Partito Democratico di Pesaro e Pia Perricci, coordinatrice della lista civica Vieni Oltre, come detto questa sera alle 21.20 amministrando. A seguire alle 22.15 rivivremo la cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale della Cultura 2024 nello speciale realizzato per l'occasione alla Vitri Frigo Arena. E poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra segna stampa dei quotidiani locali che in questo mercoledì sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Ed è davvero tutto per questa sera. Rossini News si conclude qui. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.